Buongiorno a tutti, sono le 11.15 del 20 settembre e siamo in pieno svolgimento del nostro corso odierno, lettura di bilancio per non finance, anzi i miei partecipanti sono in break e io sono qui che parlo con voi. Il corso è relativo alla lettura e interpretazione dei dati economico finanziari del bilancio, abbiamo appena iniziato e il corso durerà poi per un'altra giornata ancora. L'aula è particolarmente interessante, sono in 14 persone, aziende variegate, quindi sicuramente molta interazione e molto stimolo a domande e risposte. Speriamo di fare un buon lavoro, vi aggiornerò prossimamente. Grazie a tutti.